Ciao a tutte, eccomi tornata con un nuovo video e questo sarà un video outfit ovviamente dal bagno, non so se si nota cioè, vedete, è la vacca comunque, questo è un outfit di una serata appunto sto aspettando che arriva il mio ragazzo ovviamente in ritardo e usciamo perché è il sabato prima di Pasqua non so se lo verico subito questo video comunque sì quindi oggi è stato il sabato santo e esco e niente, vi faccio vedere come sono vestita se riesco metto anche un pezzettino di video che ho girato prima di là in camera dei miei genitori per farvi vedere meglio il trucco comunque adesso ve lo faccio vedere lo so, l'eyeliner non è proprio perfetto in questo lato, questo lato è più carino ma non avete idea di quante volte ho già provato a metterlo e questo è stato il risultato migliore comunque magari così io sono meglio per evitare di tagliare il video comunque praticamente è l'eyeliner una riga di eyeliner le ciglia finte da metà fino alla fine poi sotto c'è un ombretto dorato illuminante illuminante le labbra sono praticamente la matita di essence e al centro c'è un pochino di di correttore e poi un blush semplice i capelli non so se voi li vedete ma spero di sì spero che li vediate i capelli sono ma si vede sto dritta mi vedete non lo so i capelli sono fatti in questa specie di chignon praticamente cosa ho fatto oddio la ciglia fitta mi sta abbandonando aiuto ok ci sono una striscia di extension che ho comprato l'altra volta e ho legato tutti attorno ai miei capelli e più o meno si sono fusi in questo modo per fare uno chignon un tupo chiamatelo come volete molto più voluminoso e più grosso perché i miei di solito vengono cosa minuscola perché ho i capelli sottili ce ne ho tanti però ce li ho sottili ce li ho corti e quindi vabbè comunque passando al resto questi orecchini sono di Carina che è un negozio che c'è al centro commerciale La Fortezza qui a Modica e sono troppo belli secondo me li ho pagati 5 euro sono troppo troppo carini e mi piacciono tantissimo poi con i capelli tirati indietro come vi dicevo nell'altro video secondo me gli orecchini grandi con i capelli tirati indietro o con i capelli corti sono divini ok usiamo di nuovo ok quindi ho questa maglia che non mi ricordo se ve l'ho già fatta vedere comunque ve la faccio rivedere è scollata così ed è una maglia di una maglia che si chiama Lavand Lavand mi siete perché notate dove mi siete e ok perché è scollata però ovviamente metto una giocca sopra questa maglia è un po' grande non so se si nota perché è una M solo che l'ho trovata in sconto alla Queen a 15 euro invece di 50 e non la potevo lasciare lì anche perché è abbastanza leggera quindi si può mettere anche durante l'estate tranquillamente poi questa giocca come è uscito giocca che ha le maniche e qui davanti di lana no? così e poi dietro come vedete è tutta plissettata ed è di Zara che è molto molto carina è leggermente grande infatti tutte cose misure più grande pure queste M io sono molto piccolina soprattutto sopra e quindi anche lei mi stessa mi sta un po' grandicelle ma fa niente perché di mia mamma vabbè giustamente la presa della sua misura non è che la prendeva della mia comunque a parte questo questa è la giacca che mi piace però tantissimo e quindi l'ho messo lo stesso e poi vi faccio vedere che cos'ho salendo lì sopra cioè che cos'ho addosso questo ho allora ho questa minigonna che è un minigonna in realtà estiva però vabbè non fa niente in realtà dovrà anche un pochino passare sì ed è di Stradivarius l'ho pagata ma credo 10 euro anche di meno cioè proprio niente ovviamente non c'è il prezzo della giacca e poi ho le calze velate di collant di neri semplici e poi ho questa scarpa qui ora la faccio vedere meglio facendo un non sono molto sicura di mettere la gonna perché in realtà c'è un po' di freddo quindi forse metterò i pantrulli neri alla fine vabbè comunque vi faccio vedere le scarpe che sono queste qui e allora ma ve le vedete credo di sì forse sono io che non le vedo comunque è una semplicissima cos'è una décolleté décolleté nera di tipo velluto che cos'è velluto sì insomma avete capito il tessuto no e niente sono carine non sono particolarmente comodo nel senso che io non ci sono abituata a stare con le scarpe col tacco ma però è per niente cioè no non ce la posso fare però pazienza ogni tanto le voglio mettere perché sono bassina per chi non lo sapesse sono un metro e cinquantasette anni circa quindi sono bassina e quindi mi serve qualcosa per alzarmi un pochino anche perché tutti i giorni porto le scarpe basse assolutamente non ce la posso fare e boh speriamo bene e che anche perché se no il mio ragazzo credo che non sarà molto contento giustamente di avere un peso morto al fianco e niente sto sparlando un pochino così sì va bene niente comunque giù vi lascio i link di facebook twitter e instagram seguitemi se vi va ovviamente mi piacciono troppo questi capelli fatti così sì sì mi piacciono tanto è solo che non avevo la lacca speriamo che tengano cioè ho messo un po' di schiuma però non è proprio la stessa cosa vabbè comunque sto divagando ovviamente e vi lascio anche appunto vi lascio tutti i miei link qui sotto se vi piace questo video cliccate mi piace e se vi va se siete nuovi o nuove nel mio canale e se vi è piaciuto rumori strani se vi è piaciuto questo video e gli altri miei video cliccate iscriviti iscriviti sì iscriviti e niente io spero di avervi tenuto compagnia spero di avervi dato qualche sputto e fatemi sapere cosa ne pensate mettete un video di risposta o tanti commenti che a me piacciono tantissimo spero anche di riuscire a usare la grafica non o grafica del canale quindi se per il momento vedete qualche diciamo come si dice qualche cambiamento anche della serie lavori in corso non vi preoccupate e questo è tutto io vi auguro una buona serata buona giornata qualsiasi momento voi siate e un bacione ciao